1.300 dosi di hashish e marijuana nascoste in delle buche all'interno del parco di Colle Oppio. Cinque pusher sono stati arrestati all'interno dell'operazione contro lo spaccio di stupefacenti realizzata dalla Polizia di Stato. Troppi i segnali che all'interno del parco fosse rifiorito il fenomeno dello spaccio. Così gli agenti del commissariato Esquilino hanno monitorato le attività dei cinque soggetti che avevano messo su una organizzazione che dava ad ogni membro un compito preciso. C'era chi riceveva le ordinazioni, chi riscuoteva il denaro e chi consegnava la droga. Ma nonostante i tentativi di dissimulare l'attività di spaccio, lasciando cadere per terra le dosi poi raccolte dai clienti, gli investigatori hanno utilizzato cani antidroga per ritrovare le dosi nascoste all'interno del parco. I cinque pusher, di età compresa fra i 20 e i 32 anni, sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio. Grazie. 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 Grazie.